Ciao a tutte ragazze, vi volevo far vedere gli ultimi acquistini che ho fatto, li ho fatti soprattutto all'outlet a Valdichiana perché ci sono andata in una giornata in cui facevano il 20% di sconto dal prezzo outlet in tutti i negozi e in più se avevi la carta fedeltà avevi un ulteriore 10%, io avendo la carta fedeltà quindi ho soffruito del 30% di sconto Ora vi dirò i prezzi pieni, poi considerate che su tutti questi c'è da fare il 30% di sconto e partiamo subito, sono stata nella profumeria etrusca, che è una profumeria che si trova lì all'outlet prima di tutto ho preso questa pochettina qui della Pupa, è una versione natalizia dove all'interno c'era una matitina, Pup Art Smokey Eye Pencil numero 003 da una parte ha lo sfumino ed è marrone e poi c'è una palette Pup Art Pocket e i colori sono questi qui ha anche il pennellino con l'applicatore con la spugnetta e di questi vi lascio una foto con gli swatch perché sta girando il video di sera e quindi non riuscireste a vedere niente e vi lascio la foto la pochettina veniva a 15 euro a prezzo pieno poi ho acquistato, questa praticamente era legata così penso sia una confezione fatta direttamente da loro in profumeria e è l'olio mille usi della B-Chic che io ancora non ho aperto e il braccialino, il bracciale questo qui della B-Chic è un verde ora lì sembra più azzurro però è verde e questa confezione qui veniva a 12 euro a prezzo pieno poi sempre in quella profumeria ho preso questi due insieme era una confezione, erano proprio attaccati insieme e è il Maybelline Super Stay 24 ore allora, questo è nella colorazione 10 Ivory e questo qui è nella colorazione numero 2 Light Beige però, ora non so se metterò a fuoco va bene allora, il correttore non ha potuto scegliere il colore perché si poteva scegliere solamente il colore del fondotinta e io ho scelto questo qui, Ivory e il correttore erano già legati insieme quindi non c'era la possibilità di scegliere il colore del correttore il fondotinta l'ho già usato una volta e mi è piaciuto davvero molto però ecco, l'ho usato una volta quindi poi non so, magari si cambia idea e questi qui insieme venivano 8 euro poi lì all'outlet c'è anche Bottega Verde e sono stata lì, soprattutto ero andata per prendere praticamente il mio detergente riso venere solo che non c'era più e quindi c'era in offerta questo qui a 4,99 questo ha il melograno e ho preso questo ancora non l'ho aperto nemmeno questo qui perché sto finendo l'altro quindi appena terminerà quello poi inizierò a provarlo e questo veniva a 4,99 a prezzo pieno poi ho preso un'altra delle mie matite preferite queste qui di Bottega Verde questa è viola non si legge, penso va bene questa qui è viola questa matita qui a prezzo pieno veniva 2,99 anche su questa c'era sempre il 30% poi ho preso una palette della collezione natalizia di Bottega Verde che non mi ricordo assolutamente come si chiama e questa ho già fatto un danno perché l'ho già fatta cadere e ho perso un ombretto praticamente era quello glitter puro e questa è la palette zucchero e cacao eccola qui questo qui ora voi lo vedete ok, non c'è più perché mi ha scivolata dalle mani e non c'è più praticamente c'erano glitter sparsi ovunque questa qui veniva a 12,50 euro e era già scontata però su questa mi hanno fatto solo il 10% quello valido con la carta praticamente fedeltà anche di questa e della matita vi lascio la foto con gli swatch poi da Bottega Verde avendo preso 3 prodottini in omaggio davano una crema a mani e io ho preso la mia crema a mani Argan del Marocco ho fatto altri giretti nei giorni successivi e sono passata da Scarpe Scarpe a vedere la collezione natalizia della Essence e ho acquistato allora questo qui il Blush Sugar Plum Failing il numero 2 che non si leggerà niente proprio ed è questo qui ok e poi ho preso della collezione natalizia due ombrettini ero partita che volevo quello oro però quello oro non c'era quindi ho preso gli altri due non ha molto senso però e sono questi due qui allora questo Fuchsia si chiama come Blush Sugar Plum Fairy e quest'altro invece è Light Up The Tree e anche di questi tre vi lascio la foto con gli swatch è sempre della Essence siccome l'altra volta non l'avevo trovato ho preso il blush quello che è uscito con la con la collezione permanente che è questo qui il numero 60 Life's a Cherry e anche di questo vi lascio lo swatch e poi ho preso la matita la lip liner questa è la numero 10 Femme Fatale e anche di questa vi lascio la foto con lo swatch allora i due ombrettini venivano 2,49 euro il blush 2,89 euro questo qui mi sembra 2,19 euro ma non sono sicura questa qui invece veniva 1,89 euro poi sono passata anche all'acqua e sapone e ho preso allora questo struccante occhi lenitivo con bio fiore di Altea della Geo Mar c'è scritto ideale per occhi sensibili questo ancora non l'ho aperto quindi non so cosa dirvi questo l'ho pagato 2,50 euro e poi ho preso il termoprotettore della Frank Pruvot questo qui questi sono 300 ml e questo l'ho preso perché era in offerta a 3,20 euro poi ho preso grazie al video di Martina 91 Martina S ciao e siccome aveva fatto un video su dei prodotti con un inci decente insomma per la cura del viso del corpo dei capelli e seguendo da diverso tempo i suoi video ho visto che abbiamo la stessa tipologia di capelli e lei faceva vedere che si trovava molto bene con questo shampoo qui dei provenzali e quindi ho voluto provarlo anch'io sono andata a prenderlo allora l'ho pagato 3,10 euro mi sembra e l'unica cosa l'ho utilizzato ecco una sola volta quindi l'unica cosa che posso confermare è quello che ha detto Martina che sì sembra proprio il sapone per i piatti perché l'odore è lo stesso e questo è a limone e ortica però il limone si sente tantissimo cioè sembra realmente sapone per i piatti ora io l'ho utilizzato una volta mi sono trovata bene però ecco è un utilizzo quindi non so non so dirvi con precisione com'è allora questi sono tutti gli acquistini che io ho fatto in questo ultimo periodo io spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutte